Un weekend ad alte prestazioni, quello vissuto dagli appassionati del marchio della Stella, in occasione delle due giornate dedicate interamente alla gamma IMG, la sportiva di casa Mercedes-Benz, che tra Performance Car, Sports Car e Street Regal Race Car arriva a contare oltre 60 modelli di vetture. In anteprima, i clienti della concessionaria Rossi Mercedes-Benz, tra i 12 IMG Performance Center italiani, hanno potuto scoprire le ultime novità dalla GLC 43-63, nella versione SUV o Coupé, alla nuova A45S, che con i suoi 421 CV vanta in assoluto il più potente motore 4 cilindri turbo mai costruito per la produzione in grande serie. Abbiamo voluto, grazie anche al format ideato da Mercedes-Benz Italia, creare un qualcosa che sia veramente pieno di adrenalina, carico di adrenalina, di competizione all'interno già di un evento molto strutturato e molto importante come è quello che coinvolge la IMG, quindi il brand più sportivo che la gamma Mercedes può offrire. Un weekend durante il quale, affiancati dagli istruttori dell'IMG Driving Academy Italia, è stato possibile approfondire la storia del marchio e le tecniche della guida sportiva attraverso interessanti sessioni teoriche e salire a bordo delle stelle firmate Mercedes-AMG per emozionanti road tour. Non dimentichiamo mai nei nostri eventi però anche la sicurezza, perché queste vetture hanno grandi prestazioni, hanno grandissime doti di sicurezza attiva e passiva, quindi grandi sistemi, però hanno bisogno anche di una guida consapevole ed esperta. È proprio per questo motivo che Mercedes-Benz Italia, in collaborazione appunto con noi dealer, ha voluto regalare in questo weekend ai nostri clienti anche delle sessioni di teoria, quindi imparare a capire come sono costruite queste vetture, le caratteristiche delle proprie motorizzazioni, i sistemi che le caratterizzano, le tecniche di guida, ovviamente poi tutto condito dalle prove su strada che sono il momento veramente più bello e più intenso di tutte le nostre attività con i clienti. Diamo appuntamento quindi a tutti i nostri clienti a un 2020 che sarà ancora più ricco, con tante tante iniziative, anche all'insegna del brand AMG, sempre all'insegna della grande sportività, della grande linea che caratterizza questo tipo di vetture, ma anche sempre all'insegna della sicurezza, che è un tema a cui Mercedes e a cui noi teniamo in maniera molto particolare. Grazie per la visione!